La diffusione dell'epidemia di coronavirus è costantemente in calo da più di un mese e il presidente della regione Enrico Rossi ha firmato una nuova ordinanza che allenta alcune delle misure anti-covid adottate nei mesi scorsi, semplificando anche una procedura finora obbligatoria per le aziende e le attività economiche. Sia chiaro, la maggior parte delle prescrizioni di sicurezza resta in vigore, ma ci sono tre cambiamenti. In primo luogo cessa l'obbligo per gli esercizi commerciali di fare entrare una sola persona per ogni nucleo familiare. D'ora in poi i membri della stessa famiglia potranno andare a fare la spesa al supermercato o a fare shopping insieme. Punto due, le attività economiche e produttive non sono più tenute a inviare alla regione i protocolli anticontagio che hanno adottato per le riaperture dopo il lockdown. Infine, per la pulizia, disinfezione, sanificazione e areazione dei locali, d'ora in poi si dovrà fare riferimento semplicemente alle indicazioni contenute nei rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità e i successivi aggiornamenti. In un'altra ordinanza, la regione ha disposto che i corsi di formazione professionale e per la sicurezza nei luoghi di lavoro possono essere effettuati in presenza, nonché delle viteguida per i mercati e le fiere.